Chi mi conosce sa che amo viaggiare, lo avrete visto anche dai primi video, Imperia, Bologna, Bergamo. Che siano trasferte più o meno brevi, ricordate, la parola d'ordine per intraprendere un viaggio è ORGANIZZAZIONE! Oggi vi mostrerò come ci si prepara per la visita in giornata di una città. Regola numero 1, sveglia presto. Svegliarsi presto non significa le 10, massimo 8. Ma ti è invece alle 7 e mezza. Che tristezza. Regola numero 2, come vestirsi. Non ascoltate chi dice di vestirsi comodi, non dovete mica fare una scampagnata. Quindi esclusivamente in camicia. La camicia ci permette di far finta di essere persone colte e autorevoli. Oggi camicia e pantaloni di lino, perché me li ha prestati. Che tristezza. Regola numero 3, zaino con l'occorrente. Ombrellino. Se il meteo dice che ci saranno 42 gradi di minima, quel giorno sicuramente pioverà. Cellulare. Caricabatterie. Powerbank. Portafoglio. Soldi. Pazzoletti. Occhiali da sole. Videocamera. E non posso appoggiarla, sto riprendendo. Cartina. Non quella delle sigarette. Carta e penna. Sacchetti. Non succede, ma se succede. Semplice e efficacia ragazzi. Volete viaggiare come si deve? Fate come me. Volete continuare a viaggiare come facevate? Continuate a viaggiare male. Eccoci al completo. Cacchio la mascherina. Nella prossima puntata. Voi direte zona arancione, ma dove vuoi andare se non puoi uscire dal comune? Visita il tuo comune, siamo in visita a Milano!